Per marinare un tacchino in salamoia, prima cerca una pentola abbastanza capiente per contenere e sommergere la carne. Versa 4 litri di acqua tiepida e 280 grammi di sale nella pentola. Quindi rimescola fino a far dissolvere quest'ultimo. Insaporisci la carne aggiungendo le erbe aromatiche e le spezie che preferisci, come una foglia d'alloro, pepe nero, timo o persino zucchero bruno. Poi, sistema il tacchino nella pentola e mettilo in frigo. Lascialo marinare nella salamoia per almeno 8 ore. Infine, quando arriva il momento di cuocerlo, rimuovi il tacchino dalla salamoia e risciacqualo sotto il getto dell'acqua corrente.